Per chi non lo sapesse, il Gardacon è essenzialmente una fiera che mi pare è nata relativamente da poco, dovrebbe essere da forse 3-4 anni che ci sta, comunque non è una fiera proprio di quelle storiche, e praticamente tramite l'agenzia di cui faccio parte, DEC Communication, che è un'agenzia di influencer, youtuber, tiktoker, che insomma gravitano intorno al panorama anime e manga, siamo stati invitati a questa fiera, quindi praticamente ero ospite del Gardacon insieme ad Arcanthos e ad altre persone che vabbè voi non conoscete, quindi citerò solamente Arcanthos. Ah, riprova di questo, avevo questo bellissimo pass, guardate qua, il pass della fiera, che proprio faceva vedere, ospite Alessandro Carretta invitato da DEC. Quindi sì, diciamo che ero un vips incredibile della fiera, e allora vi racconto un po', praticamente siamo stati due giorni, ieri e l'altro ieri, sabato e domenica. Allora, il problema principale di tutta questa faccenda è stato il viaggio, sia all'andata che a ritorno, perché purtroppo ci avevano prenotato il treno alle 5 di mattina all'andata e alle 5 e mezza di mattina a ritorno. All'andata, quindi, insomma, mi sono dovuto svegliare alle 4 di mattina di sabato e siamo andati a prendere il treno con Arcanthos, perché era venuto qua a Roma per appunto prendere il treno insieme, così facevamo il viaggio appunto non separati, e quindi niente, il viaggio iniziale di sabato è stato un inferno, perché siamo stati tipo 5 ore da Roma fino a Milano, poi abbiamo perso il treno perché era ad un orario improponibile, e quindi praticamente siamo ripartiti alle 11 da Milano a Brescia e poi ci hanno portato in macchina al Gardacon, quindi diciamo che il primo giorno siamo arrivati a Luna, al Gardacon, e siamo stati un po' tutto il giorno in fiera a vedere un po' le varie cose, gli stand e tutto quanto, diciamo che dopo, da quando stavamo in fiera, dopo circa un'ora e mezza, due, che abbiamo visto un po' tutti gli stand e tutte le varie cose, io personalmente, ma anche Arcanthos, ci siamo veramente rotti i coglioni. Sarà che, insomma, era il primo giorno, io non conoscevo nessuno, tranne Arcanthos, del gruppo con cui eravamo andati, di deck, quindi, insomma, non è che facevamo, cioè, non conoscevo essenzialmente nessuno, quindi non è che chiacchieravamo, cose incredibili, ognuno stava per i fatti suoi e quindi, diciamo, il primo giorno veramente una merda, sia perché eravamo stanchissimi, ma proprio stanchissimi per chi non avevo dormito, nemmeno lui, e sia perché, insomma, purtroppo la fiera, dopo che l'avevi visitata, non era grandissima, erano 3-4 padiglioni, non potevi fare altro, quindi il primo giorno un po' così. Per quanto riguarda il secondo giorno, invece, è stato bello. Il secondo giorno è stato bello per il semplice fatto che avevamo un po' più, come dire, avevo conosciuto un po' tutti quelli del gruppo, quasi tutti, quindi, come dire, non ero solo con Arcanthos a girare la fiera, e oltre questo, una cosa che mi ha un po' stupito, dato che nel primo giorno, sabato, praticamente, noi stavamo nella sala VIP, che è una sala alla quale possono accedere solamente gli ospiti del Gardacon, e, appunto, stavamo là per rilassarci, c'erano robe gratis, da bere, da mangiare e tutto quanto, però eravamo solo noi. Il secondo giorno, domenica, probabilmente perché era il giorno con più persone, sono arrivati, effettivamente, altri personaggi importanti, leggermente più importanti di me e degli altri, in particolare, coso, Flavio Aquilone, che è imboccato, appunto, in, proprio nella sala VIP, così, di punto in bianco, ho detto, ah, cazzo, c'è Flavio. Sapevo che sarebbe venuto in fiera, ma non pensavo che sarebbe venuto proprio nella sala, perché il giorno prima c'era stato anche Gianluca Iacono, ma non l'avevamo proprio visto. Quindi, niente, è arrivato Fabio, ci siamo fatti la foto, vi faccio pure vedere, però, insomma, non è che abbiamo fatto niente di che, perché stava un po' per i fatti suoi. Già solo chiedergli la foto mi ha dato molto fastidio, perché, cioè, come dire, mi... Mi dà fastidio importunare le persone quando stanno per i fatti loro, doverli far scomodare per chiedere la foto, però, essenzialmente, questa qua è la foto, l'ho anche pubblicata su, su, cosa, su Instagram. E niente, altri ragazzi ci hanno anche parlato di doppiaggio, di altre cose, comunque, molto simpatico, mi è sembrato, un ragazzo, cioè, un ragazzo molto disponibile, insomma, non che io sia un grandissimo fan di Flavio, però, insomma, riconosco che ci sono alcuni personaggi tipo Light di Defnot, che mi piace molto come l'hanno doppiato. Non ci sa Flavio di Vid? No, Flavio di... di Vid no. E... poi, a parte quello, dopo, diciamo, Aquilone, è entrato anche... non moccia, è entrato Giorgio Vanni. E qua anche, ho detto, cioè, ripeto, anche qui, io non sono il fan numero uno di Giorgio Vanni, però mi rendo conto che, come dire, è un personaggio abbastanza importante. E mi ha fatto veramente... cioè, mi è piaciuto proprio come cosa, perché è una persona solarissima. Mo, sarà forse perché, vabbè, ovviamente, non è che credo che nella quotidianità di tutti i giorni sia così energico e così solare come quando lo si vede in pubblico. Però, niente, è entrato in sala, proprio tutto gasato, tutto carico. Poi conosceva molte delle persone con cui stavo io, cioè, tipo, Anime T-Time e altri, comunque conoscevo un po' di persone. E quindi, niente, è stato là, si è messo a parlare, ho fatto la foto anche con lui, ma non ci ho parlato per ovvi motivi, insomma. Non è rimasto. Mi dico Vanni. E però, ripeto, mi ha fatto comunque piacere incontrarlo. E diciamo, la cosa più interessante, Dario Moccia. Dario Moccia non me l'aspettavo minimamente. Sapevo che sarebbe venuto alla fiera per andare allo stand di Frederick, l'amico su, insomma, che vende le carte di Pokémon. Però, non credevo né che sarebbe venuto in sala VIP, ma soprattutto, la cosa particolare di Dario è che è rimasto in sala VIP per, tipo, tre ore. Cioè, nel senso, per niente è arrivato, lui conosce i ragazzi di Anime T-Time, che sono, vabbè, dei ragazzi che streamano su Twitch, sono abbastanza famosi in community. E, niente, per niente, noi stavamo seduti tranquillamente a parlare, a farsi i cazzi nostri, è arrivato Dario dall'entrata, si è messo ad abbracciare quelli di Anime T-Time, e poi si è seduto insieme a noi, perché si voleva riposare, e ha iniziato a chiacchierare a manetta di una marea di cose diverse. Diciamo, non mi aspettavo che, come dire, sarebbe rimasto lì, pensavo, vabbè, arriva, se ne va, sti cazzi, anche con lui, vabbè, mi sono fatto una fotina. Però, ripeto, veramente, non me l'aspettavo, perché, cioè, una persona veramente molto, molto, molto disponibile, molto aperta, proprio come appare il live, è proprio come appare il live. Cioè, una di quelle persone che tu lo vedi in live, si comporta in un certo modo molto amichevole, simpatico, tutto quanto, dal vivo è la stessa cosa, è proprio la stessa identica cosa, anzi, forse pure di più, molto, cioè, io con Dario ho parlato di Elder Ring, perché a un certo punto, come dire, hanno iniziato a parlare di videogiochi, di From Software, di Elder Ring, e dato che io lo conosco, il gioco, e ho seguito Atrix, lo sapete, uno dei pochi streamer che segue in Italia, che ci ha giocato, e ci siamo messi a chiacchierare di Elder Ring, gli ho chiesto un po' di cose, però, sensibilmente, si è messo a parlare, ripeto, per due ore di tutto e di più, di una marea di cose, anche di cose private, nel senso, ha detto anche cose riguardanti alcuni suoi progetti, che ha in mente in futuro, quindi, non lo so, mi è sembrato proprio veramente una persona simpaticissima, molto, molto aperta e tutto quanto, e per chi non lo sapesse, magari qualcuno di voi non conoscerà, Dario Moccia, è tipo lo streamer italiano più grande che ci sia, quindi, è comunque una persona abbastanza importante, non è un coglioncello che fa live su Twitch, è uno bello, bello importante, e tra l'altro è molto ferrato, anche in, ovviamente, in ambito anime e manga, però, vabbè, molti di voi lo sapranno, simpaticissimo, mi ha fatto veramente molto piacere incontrarlo e non me l'aspettavo, veramente. Poi, parlando dell'ultima cosa inerente alla fiera, dovete sapere che, come dire, come requisito per andare alla fiera, per noi ospiti, era quello di presentare un panel, quindi, essenzialmente, fare non un'esibizione, ma più una chiacchierata davanti a un palco con le persone. Ognuno aveva il suo orario e io ed Arcantos ce l'avevamo, appunto, ieri, domenica, alle 5, e il nostro topic, l'argomento, era parlare di Attack on Titan. Allora, diciamo che è stata un'esperienza veramente particolare, perché, cioè, dovete sapere che, insomma, io sto sempre in live su Twitch ormai da 4 anni, quindi pensavo di essere abituato a parlare davanti a un pubblico con delle persone, però, veramente, il parlare su un palco con i microfoni, davanti a delle persone che, essenzialmente, stanno zitte e ti guardano, ah, raga, è tutta altra cosa. È veramente tutta altra cosa. Cioè, non è come se tu stessi presentando un progetto, una tua cosa. Non puoi smettere di parlare. Non puoi smettere di parlare, perché non è come qua su Twitch che, vabbè, mi sto zitto, leggo la chat, ok, leggo quello che dite e vado avanti. Cioè, lì, se ti fermi, sembri un coglione. Lì, se ti fermi un attimo, perché dici, vabbè, ho finito il discorso che sto facendo, comunque, vabbè, abbiamo parlato della quarta stagione, delle prime stagioni, del doppiaggio, di Crunchyroll, di Studio Mappa, tutti argomenti, insomma, di cui parliamo sempre in live, pure con voi, di Attack on Titan. Però, ripeto, là non ti puoi fermare. Cioè, nel senso, se ti fermi, c'è un silenzio imbarazzatissimo, tutti che ti guardano, e tra l'altro non erano nemmeno poche persone. Cioè, erano una ventina, una venticinque persone, tipo, che erano sedute a guardarci. Quindi, non lo so, è stato interessante, non me l'aspettavo, però, comunque, una bella esperienza. Sei bloccato? Sì, sì, mi sono bloccato, nel senso che, allora, io pensavo che fosse stato più palese, ma da quelli che vedevano l'esibizione non se ne sono accorti, a quanto pare. Però diciamo che, durante la parte in cui parlavamo, ci sono state due volte, in cui proprio ho detto, Arca, continua tu, perché non so che cazzo dire. Cioè, perché, praticamente, gli argomenti ce li avevamo preparati, e pensavamo sarebbero bastati per un'ora di chiacchierata, ma dove sapere che dopo mezz'ora li avevamo già finiti. Cioè, dopo mezz'ora, i dieci argomenti che ci eravamo preparati su Attack on Titan erano già finiti, perché, ehm, non lo so, cioè, forse ci aspettavamo che avremmo parlato per più tempo, ci aspettavamo qualche interazione in più, una... Però, veramente, siamo andati molto veloci, e quindi dopo un po' le cose da dire erano finite, e io non sapevo come perdere tempo, sia perché ero un po', come dire, sotto pressione, perché, ripeto, non era una situazione in cui... alla quale sono abituato, era la mia prima volta su un palco a parlare col microfono, sia perché, cioè, non sapevo proprio che fare, quindi per fortuna in questo caso l'ho... Mi sono anche scusato dopo, ma Arcantos mi ha un po' salvato, ha detto un po' di cazzatine per prendere tempo, però è stato bravo, è stato bravo. E comunque, ripeto, bella esperienza, però non sono, come dire, tanto sicuro che la rifarei così tanto volentieri, questa cosa del palco, perché era... È tosta, diciamo è tosta, te la devi, secondo me, preparare bene una presentazione davanti a delle persone, proprio devi prepararti tanti argomenti, fare anche un discorso prima, noi alla fine eravamo andati proprio a braccio, avevamo, sì, preparato gli argomenti, ma non è che avevamo studiato il discorso da fare, però, vabbè.